Proseguono gli incontri con gli autori promossi dai premi internazionali Flaiano dal Media Museum, un museo del cinema di Pescara in diretta sui social. Agnello Di Maio intervista la scrittrice Claudia Petrucci ha presentato il suo libro l'esercizio editore la nave di Teseo ed è stata la vincitrice del premio internazionale Flaiano BPR banca di letteratura 2020 sezione giovani. Come potremmo dire la trama senza andare troppo? Ci sono Filippo e Giorgia che appunto come hai detto tu vivono nella periferia di Milano e cercano di portare avanti la loro vita di cui non sono contenti. Giorgia fa la cassiera maestra patrice di teatro, Filippo lavora in un bar ma sognava di fare il giornalista. Un giorno quest'ordine viene distrutto dall'arrivo di Mauro che si dichiara come l'ex insegnante di teatro di Giorgia di recitazione. Il ritorno di Giorgia al mondo del teatro porta il dramma nella vita di Filippo perché attraverso il teatro Filippo scopre che Giorgia è molto malata, una forma di malattia mentale che la porterà a perdere la coscienza del sé e quindi tutto il romanzo sarà concentrato sui dettantivi di Filippo aiutato da Mauro nel riportare Giorgia alla forma originale. Faranno questo con un espediente molto particolare che coinvolge la scrittura di un copione.